Di Eterba presenta la biblioteca dei ragazzi in gamba, la diligenza. Coraggio, fatica, sudore, ombre rosse, tra gole deserti, tra polvere scosse. Da Sitla a San Luis, da Doge a Wichita, l'America insieme teneva cucita. Partiva un mattino portando lontano il bene assortito a suo carico umano. L'allegra donnina, il gran giocatore, la nobile dama, il vecchio dottore, un ladro, un piazzista, un cowboy ricercato. Lì insieme a spartire in quel viaggio dannato, coraggio, fatica, sudore, ombre rosse, tra gole deserti, tra polvere scosse. E a un tratto le ombre saltavano fuori, con l'odio e la rabbia che avevano nel cuore. Ma via, strepitava l'omino a cassetta. La dama abbracciava l'allegra donnetta, sparava il cowboy, il gran giocatore, tremava il piazzista, rideva il dottore. Finché la salvezza spuntava laggiù, portata a cavallo, dagli angeli puoli. E lei riprendeva il lunghissimo viaggio, al solito vecchio dannato pedaggio. Coraggio, fatica, sudore, ombre rosse, tra gole e deserti, tra polvere scosse. La diligenza, un'altra meravigliosa avventura, offerta dal biscotto Montefiore. Biscotto Montefiore, è il biscotto dietetico che garantisce tutti i fattori indispensabili per la crescita. È un alimento completo, digeribile. Particolarmente indicato per una superalimentazione. Biscotto Montefiore. Ed ora la nuova confezione, conserva meglio i fattori nutritivi del biscotto Montefiore. Per l'infanzia e per tutte le età, i due classici prodotti di Eterba.